maestro popolo schiavo devi vedere tutti i miei ordini schifoso si ma mio caro sta fattando la gente schiavo devi essere bastonato 5 volte maestro dai farla volontaria del signore e soprattutto dovrai infilarti quel remo in culo adesso devi venire ti devo infalare vivo si mettono ecco oddio eccolo le mamme faccio sbra tu parli bene 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 Mosè Mosè ci faccia vedere come apre le acque anzi come apre le chiappe ci faccio vedere come apre le chiappe guardate come apre le acque si gira e si mette a pecora a pecora a pecora di là però si ti metto a pecora poco peso ho scicolo ho scicolato puoi posso fare colpe ступi noo standards su ho svegliato Quelle due donne, le figlie delle tibu maledette di Alux Blu, vai, vai, non ho capito, quelle sono le donne maledette delle tibu di Alux Blu, ma le sorelle del bambino è sacerente, anche quello, vai, e porta il tuo sfermo assato anche nelle tibune fante dell'estero, non posso, vai, vai, non posso, in ginocchio di Andri, in ginocchio di... Oh, questa è la mia del bastone, eh? Sta fatta pippa questa! Vi consiglio una cosa, inculati la vicenda con questo remo, ma che cazzo sta andando? Oh, ditto, ditto, dritto, dritto e mezzo al bucio! Qualcunzio! Ah, ma avete esagerato, però, mannaggia dei santi! Eri il mio schiavo! Oh, per piacere, eh, i verzei che non sono vandali! Oh, vandali, buttano in terra! Oh, voi fate incazzare, a parte scherzi! Sì, come siete incazzo, però? Lo so, te, torrò me di cazzo! Allora, dicevamo, infilate questo remo in culo a vicenda! Facciamo questi due giudici di là, io di là, perché ce lo singiamo, tipo... Che scherzo! Non sei neanche un cazzo, non dica, pa! Mettiamoci l'attore! Allora, via, l'acchietto non mangio! Dopo! Ma è la pena, la portina nuova! Non ci dobbiamo, 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 non ci dobbiamo! E' un'azionistra! Mazza, oh! Stai su, cazzo, cazzo... Eccolo, oh, guarda! Ultimo, cazzo! Un'azionistra! Perché altro sembra che vi stancava! Va bene, non so... Meno, cazzo! Sa fumità, questa, eh! Sacro Dio! Voi ti spingono? E z-z-zitti! Eh? Un'azionistra! Ambi lasza! Ambi lascia! Guarda! Ma che è poco di tiro? ah che c'è il coso qui stava vinto la gara dei rotti eh allora tu hai vinto la gara dei rotti perciò ti devi infilastore ma un culo po' addio te ti diamo un culo aspetta oh mazza sei ancora in gara allora ma aspetta ha vinto lei ma io non l'ho sentita la gara dei rotti non ci caccia ma che è merda si è parente tua spettacolo ma che cazzo stai fumando è la mia canna prelibata allora teniamoci a precisare i verzeca non sono cannati non sono drogati questo è un pezzo di legno questo io non ha mai fumato in vita sua quindi va tutto ma noi siamo vandali eh appunto ma quantomeno adoriamo un dio di merda come questo porco dio di lampione nuope sta in cielo non l'amiamo perchè verso il caso virio ah si guardano un attimo lo faccio con un tre della situazione la bibia ci sta con le strunzate la promotedione forehead pare è semprepera mi stai facendo venire un'idea, guarda cutt...... un video che potrebbe cambiare Il futuro di Verzegas Ci vediamo alla prossima puntata ragazzi